Buongiorno a tutti, io sono Angie Cabrera del Teatro Lanciavicchio. Lavoro insieme ad Antonio Silvagni al laboratorio teatrale nel liceo classico di Avezzano. Quando la pandemia ha fermato i nostri laboratori teatrali a scuola, così come tante altre cose, noi per lungo tempo siamo rimasti in silenzio. Poi ci siamo incontrati virtualmente insieme ad un gruppo ristretto di ragazzi con i quali lo scorso anno abbiamo lavorato sull'edipore di Sofocle che prende le mosse dalla presenza della peste a Tebe. Abbiamo superato la paura, abbiamo sospeso il progetto teatrale al quale stavamo lavorando, cioè l'anfitrione, e ci è venuto alla mente un testo, un racconto di Friedrich Durremath, La morte della Pizia, che è un testo che mette continuamente in discussione tutte le certezze e tutte le verità. Era più che altro un laboratorio di scrittura, poiché per fare teatro abbiamo bisogno di molto di più che una presenza virtuale. Dopo il vostro invito è diventato un laboratorio di analisi e di comprensione del testo e dei personaggi. Abbiamo raccolto così i primi appunti per un futuro spettacolo. Abbiamo pensato di non interrogarci più sul presente, ma di interrogare questi mitici personaggi dissacrati da Durremath man mano che si presentano la Pizia Pallnichis in punto di morte. Siamo davvero agli inizi del nostro lavoro. Ognuno dei ragazzi sta lavorando alla biografia di un personaggio, dando voce e inventando un modo simpatico per dargli anche vita, e senza poter utilizzare il proprio corpo e l'interazione con l'altro, che è una delle cose su cui normalmente basiamo maggior parte del tempo nei nostri laboratori e nel nostro fare teatro. Come dicevo siamo davvero agli inizi del nostro lavoro, però vogliamo comunque condividerlo con voi per quello che è in questo momento. Una profezia di un veggente cieco dice che presto torneremo a fare i nostri laboratori teatrali a scuola, senza paura e con molta più determinazione di prima. Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l'ingenua credulità dei greci, la sacerdotessa di Delphi, Pallnichis nona, lunga e secca come quasi tutte le pizze che l'avevano preceduta, ascoltò le domande del giovane tipo un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano realmente suoi genitori. Come se fosse facile stabilire una cosa del genere nei circoli aristocratici, dove, senza scherzi, donne maritate lasciavano intendere i loro consorti, i quali finivano anche per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse gettuto con loro. Vero è che in simili casi, essendo comunque dubitosi coloro che venivano a consultarla, la pizze soleva rispondere con un semplice sì, no, dipende. Quel giorno però la faccenda le parve di un'idiozia veramente intollerabile, forse soltanto perché quando il pallido giovanotto entrò claudicando al santuario, erano ormai le cinque passate, invece gli storo a sentire la pizze avrebbe dovuto solamente chiudere. E allora, vuoi per guarirlo dalla fete incondizionata nelle sentenze degli oracoli? Vuoi perché, essendo così di cattivo umore, le saltò il ghiribizzo di far arrabbiare quel principe di Corinto dall'aria così altezzosa? La pizze gli fece una profezia che più insensata e inverosimile non avrebbe potuto essere, la quale, pensò, non ci sarebbe certamente mai avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio padre e andare a letto con la propria madre, senza contare che per lei tutte quelle storie di accoppiamenti incestuosi fra dei e semidei non erano altro che insulse leggende. Vecchia com'era Pannichis, trascinava stancamente anno dopo anno la sua interminabile esistenza, sempre ai ferri corti con il gran sacerdote, che pure grazie a lei faceva soldi appalate, perché più passava il tempo, i suoi risponsi diventavano spavaldi ed azzardati, non che lei credesse alle cose che diceva, anzi vaticinava in quel modo proprio per farsi beffe di coloro che credevano in lei, col risultato però di destare nei suoi devoti una fede assolutamente incondizionata. Pannichis profetava, vaticinava imperterrita neanche a parlarne di poter andare in pensione. Merops riteniava infatti che quanto più una pizze fosse vecchia e svampita, tanto più diventava brava. Il meglio in assoluto era una pizze agonizzante, non a caso gli oracoli più spettacolosi le aveva pronunciati grobile quarta, la pizze che aveva preceduto Pannichis in punto di morte. Pannichis dal canto suo si proponeva di astenersi del tutto dal profetare quando l'ora estrema fosse giunta anche per lei. Ciò che voleva era morire con dignità, almeno quello, e senza fare sciocchezze. Era già abbastanza degradante che ancora adesso fosse costretta a farne, per di più in condizioni di lavoro così deplorevoli. Il santuario era umido e pieno di correnti d'aria. Dall'esterno appariva suntuoso, primo dorico puro, ma all'interno era squallido. Una speronca isolata di roccia calcarea. A unico conforto di Pannichis, i vapori che scaturivano dalla fenditura della roccia, giusto sotto il tribole sul quale lei era assiesa, alleviavano i dolori reumatici provocati dalle correnti d'aria. Da tempo ormai, quel che accadeva in Grecia non le importava più. Che il matrimonio di Agamè non ne scricchiolasse o meno, e con chi se la facesse Elena tanto per cambiare, era privo per lei di qualsiasi interesse. La prizia profetava a casaccio, vaticinava alla cieca, e poiché altrettanto ciecamente veniva creduta, nessuno ci faceva caso se le sue profezie non si avveravano quasi mai, o solo qualche rara volta, proprio quando le cose non potevano che finire, in quel certo modo. Dopo la chiusura del santuario, Pannichis aveva l'abitudine di starsene seduta ancora un po' davanti al portale laterale. Poi, zoppicando, andava a rintanarsi nella sua capanna, si cucinava un semolino e lo lasciava lì, perché si addormentava. Detestava qualsiasi cambiamento nel trantan quotidiano. Solo di tanto in tanto, e sempre di malavoglia, si presentava nell'ufficio di Merops XXVII, borbottando e mugugnando. Il gran sacerdote, del resto, la faceva chiamare solo quando arrivava qualche indovino, con la richiesta che un oracolo da lui stesso formulato venisse pronunciato dalla Pizia, per un suo cliente. Pannichis si detestava gli indovini. Va bene che non credeva negli oracoli, ma non vedeva nell'arte del Vaticino niente di particolarmente indecente, gli oracoli che non essendo per lei che non lo sia voluta dalla società. Tutta altra cosa erano invece le profezie dei veggenti, che lei era tenuta a pronunciare su loro ordinazione. Formulati come erano in vista di un certo scopo, quegli oracoli ce l'avano sempre qualche sporco intralazzo, se non addirittura a un ben preciso interesse politico. E la sera d'estate, in cui Merops, stiracchiandosi dietro la scrivania, le disse con il suo solito tono melenzo e falsamente cordiale che il veggente di Resia aveva espresso un desiderio, la Pizia pensò subito che dietro quella richiesta si nascondesse qualche sporco intrigo o calcolo politico. Per questo, benché si fosse appena accomodata su una sedia, Pannechis, undicesima, scattò in piedi e dichiarò che con Tiresia non voleva avere niente a che fare. Era ormai troppo vecchia, protestò, per poter imparare, tenere a mente e ricitare con sicurezza gli oracoli altrui. Arrivederci e grazie. Un momento, disse Merops inseguendole, sbarrandole il passo sulla soglia dell'ufficio. Un momento. Non era il caso di prendersela in quel modo. Anche lui era convinto che quel cieco d'un Tiresia fosse un tipo quanto mai sgradevole. Di sicuro il più grande maneggione e politicante di tutta la Grecia e, per Apollo, marcio e corrotto fino alle Midolla. Ma bisognava ammettere, aggiunse, che nessuno pagava bene come Tiresia e stavolta la sua richiesta era più che comprensibile essendo a Tebe di nuovo scoppiata la peste. La peste era di casa a Tebe, borbottò Pannechis. Ne c'era da stupirsene poi tanto, disse. Bastava un'occhiata alle condizioni igieniche intorno all'acropoli, la cosiddetta Cadmea, per rendersi conto del perché, in quella città, la peste fosse diventata, per così dire, endemica. Certo, disse Merox a Pannechis, sperando di rabbonirla, Tebe era proprio raccapricciante. Un fetido buco sotto ogni aspetto. Non a caso, correva voce che perfino le aquile di Giove faticassero a sorvorare la città, perché sbattevano un'ala soltanto, dovendo con l'altra turarsi il naso. E poi... per non parlare poi di quel che succedeva alla corte del re. Tiresia chiedeva di profetare al suo cliente, atteso a Delphi per l'indomani, che la peste non sarebbe finita se prima non fosse stato scoperto l'assassino di Laio, il re di Tebe. Pannechis, stupita per la banalità dell'oracolo, pensò che Tiresia, data l'età, si fosse ormai rincitrullito. Giusto per salvare la forma, domandò ancora quando quel delitto fosse stato commesso. Ma... esattamente non lo sapeva, fu la risposta di Merox. vari decenni addietro, ma non aveva grande importanza. Che l'assassino si trovasse o no, la peste prima o poi sarebbe finita. E allora i Tebani si sarebbero persuasi che gli dèi, per pedire il loro aiuto, avessero di loro iniziativa ristabilito la giustizia, annientando l'assassino dopo averlo scovato. Merox, contento di togliersi di torno la vecchia, gli dè un foglietto con l'oracolo che Tiresia aveva formulato a regola d'arte. Giambi, gli serei con un alto sospiro. Figurarsi se quello rinunciava a scrivere in versi. Fu così che un giorno, mentre era seduta al sole, che le faceva un gran bene, tanto che aveva chiuso gli occhi per non vedere più quel paesaggio delfico schifosamente chiccio. Appoggiata al muro del santuario, prospicente il portale laterale, profondamente immersa nei suoi pensieri. Di fronte a sé, la colonna ofitica non ancora terminata. La pizia sentì ad un tratto che qualcosa, forse già da molte ore, si argeva davanti a lei. Qualcosa che la intrigava e da cui si sentiva provocata. E quando aprì gli occhi, non subito, ma anzi con grande cautela, quasi le sembrava di dover prima reimparare a farlo. E quando finalmente guardò, vide una figura in mane che si appoggiava a un'altra figura non meno in mane. E mentre Pannichiss undicesima continuava a guardare, aguzzando la vista, le due immani figure si raggricciarono e assunsero dimensione umana. E l'Erico no ballora, un cencioso mendicante che si appoggiava a una mendicante altrettanto cenciosa. La mendicante era una fanciulla. Il mendicante fissò Pannichiss con gli occhi sbarrati, ma non aveva gli occhi. Al posto degli occhi c'erano due grandi buchi pieni di sanco e nero ragrumato. Sono Edipo, disse il mendicante. Non ti conosco, rispose la pizia. E strizzò gli occhi in direzione del sole che non voleva tramontare su quel mare turchino. Mi hai fatto una profezia, disse il cieco ansimando. Può darsi, riplicò Pannichiss undicesima. Ne ho fatta a migliaia. Il tuo oracolo si è compiuto. Ho ucciso mio padre Laio, ho sposato mia madre Giocasta. Pannichiss undicesima. Guardava sbigottita, ora il cieco, ora la fanciulla coperta di stracci. Pensando e ripensando che cosa tutto ciò potesse mai significare. Ma la memoria non le venne in aiuto. La pizia, che aveva ora gli occhi spalancati, ascoltava distrattamente guardando a tonite il mendicante dinanzi a lei, il quale si appoggiava alla figlia, che era anche sua sorella, e dietro di lui c'erano le rupi e i boschi, e più giù il cantiere del teatro e per finire il mare inesorabile turchino. E dietro tutto il cielo, il cielo di piombo, la superficie di quel nulla assoluto in cui gli uomini, per poter tirare avanti, proiettano ogni sorta di cose, divinità e destini di ogni genere. E quando il tutto cominciò a chiarirsi nella sua mente, quando riuscì a ricordare che pronunciando quell'oracolo lei aveva solo voluto fare uno scherzo mostruoso a quel giovane chiamato Edipo, perché lui una volta per tutte si togliesse dalla testa la sua fede negli oracoli, allora tutto un tratto Pannichiss undicesima scoppiò a ridere e la sua risata diventò immensa incommensurabile. Dopo che il cieco se ne era andato zoppicando con la figlia Antigone già da un bel po', lei stava ancora ridendo. Eppure, come di colpo era scoppiata a ridere, così di colpo la Pizzi ha muto lì, quando le venne in mente che non tutto ciò che era accaduto poteva essere considerato frutto del... caso. Si mise a sfogliare il libro di oracoli. Tutti i responsi emisi dal santuario vi erano registrati. Finalmente, si imbatte in un oracolo pronunciato per un certo o laio re di Tebe. Qualora gli fosse nato un figlio, costui lo avrebbe assassinato. È un oracolo intimidatorio, pensò Panni che strassesse. Riconosco lo zampino di Crobide Quarta, la pizze che mi ha preceduta, della quale peraltro sapeva benissimo quanto fosse corriva coi desideri del gran sacerdote. Poi, frugando nei libri contabili, trovò la prova di un versamento di 5.000 talenti da parte di Meneceo, l'uomo drago, il suocero dire di Tebe e Laio, con la conseguente annotazione per un oracolo formato da Tiresia in relazione al figlio di Laio. La pizze ha chiuso gli occhi. Meglio sarebbe stato, pensò, essere ciechi come Edipo. I vapori lievemente rossastri che scaturivano dalla fessura nella roccia la avvolse lo strato dopo strato come nuvole dense e attraverso quei velli pannichis scorse un volto e seppe tutta ad un tratto che si trattava di Meneceo, l'uomo drago. Sono Meneceo, padre di Giocasta e Creonte, la mia stirpe, quella drago, era più antica e prodigiosa di quella del re di Tebe Laio. Ho dato tutti i miei averi a Tiresia per produrre un oracolo capace di farti venire Creonte e re di Tebe. Poi a Pannichis comparve il viso del ragazzo di cui si era beffata anni addietro, Edipo. Quando io, Edipo, arrivai da te, Pannichis, sapevo già che Polibo e Merope non erano i miei veri genitori. Quando ti lasciai, stavo pensando tra me e me che dovevano essere quelle persone in base alle quali l'oracolo si sarebbe avverato. Quando all'improvviso in un crocevia uccisi un vecchio vana glorioso irrascibile. Seppi ancora prima di averlo ucciso che si trattava di mio padre Laio. Sai, uccisi anche il suo Auriga. Sì, adesso che ricordo Pannichis. Ora Pannichis, circonfusa dai vapori vide che davanti a lei si stagliava una figura femminile. sono giocasta. Che fosse mio figlio io l'avevo intuito subito fin dalla prima notte in cui Edipo mise piede al Tebe. Ma Laio non era suo padre, cosa di cui ora è convinto. Era nato dalla mia unione con un ufficiale di nome Mnesippo con cui mi sono intrattenuta una notte e che mio figlio ha ucciso in duello. Una notte dalla fessura della roccia si levò un'ombra che man mano si trasformò in un volto e gli occhi grigio e ghiaccio osservavano la sacerdotessa pacatamente. Era Tiresia. Tiresia il maneggione verboso è presente. Stratega di uomini, scacchista di oracoli. Come Marcio è corrotto mi descrivono ed è vero. Un parolaio che lucra sulla vita degli uomini indicato come salvatore e sciacallo. Da portatore di verità mi basta dire ciò che la gente vuole ma nessuno sa che non ho fatto solo del male. Il mio intento fu solo quello di proteggere la città da creonte. Tutto ad un tratto comparva una donna nel portale. Una donna vestita di bianco. Una sacerdotessa. La Sfinge. Io sono la Sfinge, la strangolatrice ma più di tutto sono la madre di Edipo nata dalla violenza carnale di Polifonte tutto per volere di mio padre Laio. Lui mi ordina di uccidere non solo Edipo ma anche il figlio di Giocasta. Quest'ultimo morì ma il mio bambino visse. Tutti noi sappiamo dell'incontro fatale in quel crocevia in cui Edipo uccise Laio e il suo orica Polifonte. io rincontrai mio figlio alle porte di Tebbe. Fu il solo capace di risolvere il mio enigma e il solo uomo che io amai. Non sapevo che fosse mio figlio ma in quei momenti eravamo felici e sui giorni felici non c'è mai molto da dire. non c'è mai.